Nome. Yvonne. Cognome. Rengwat. Dove è nata? Sono nata in Francia, nella Bretagna, nel nord-ovest della Francia. Da quanti anni è suora? Devo riflettere. Da 52, 54 anni. Da quanto tempo è madre generale? Allora, sono madre generale da 11 anni. Quasi 11. Il 24 ottobre saranno 11 anni. Ma chi è la madre generale? A questo è una domanda. Allora, la madre generale, per tutte le figlie di Maria Ausiliatrice, prima cerca di essere madre. Per tante figlie, che sono 12.000 figlie di Maria Ausiliatrice, ma anche per tanti giovani presenti nei cinque continenti, che sono negli ambienti educativi salesiani. Allora, cosa faccio? Io cerco di animare, insieme con altre sorelle, con il Consiglio Generale, di animare l'istituto, di cercare di capire quali sono i bisogni dei giovani oggi e di cercare di vedere come possiamo rispondere in tutto il mondo. Allora, il tema di quest'anno è Io sono una missione per il bene degli altri. Allora, noi abbiamo pensato a delle domande da farle proprio su questo tema. Allora, la prima domanda è in che modo lei vive essere missione per la vita degli altri? In che modo vivo essere missione? Ma prima di tutto, donando la mia vita, donando la mia vita prima di tutto a Gesù, che mi ha chiamata, e lui mi ha chiamata per donarla ai giovani in comunità. Allora, come la mia vita è missione, porto dentro di me questa passione per i giovani e non solo lo porto come pensiero, però cerco di essere un dono per loro. La seconda domanda è come possiamo noi giovani essere missione per gli altri? Penso che voi giovani potete essere missione per i giovani. perché la vostra vita è missione, perché la vostra vita, ognuno riceve la vita. È un dono. È un dono che riceviamo per donarlo. Nella misura in cui, come giovani, voi siete disponibili per, essendo in mezzo ad altri giovani, ascoltarli, cercare di capire le loro necessità, cercare di rispondere, animando i giovani, per esempio, nel Movimento Giovanile Salesiano. Voi siete animatori nel Movimento Giovanile Salesiano. Allora, non solo fate delle animazioni, ma questo parte dal vostro cuore, in cui sono presenti i giovani. perché Gesù vi mette i giovani dentro. Gesù e i giovani è la stessa cosa. Gesù si identifica con i giovani. E dunque, siete missione nella misura in cui l'amore nel vostro cuore è presente, cresce, e questo amore dal di dentro vi porta a fare delle azioni concrete per i giovani. ma parte dal vostro essere profondo. Non so se mi sono spiegata. Allora c'è l'ultima domanda, molto difficile. Ha fatto più viaggi lei o il Papa? Non ho contato i viaggi del Papa. Però io ne ho fatti molto. Allora, penso che ho fatto più viaggi del Papa, perché in undici anni io faccio ogni anno, non lo so, io ho una decina, quindici viaggi, almeno ogni anno. E dunque, però non le conto, perché voi capite che la famiglia è molto grande. la famiglia parte da Samoa, nel Pacifico, fino a San Francisco, negli Stati Uniti, attraversando tutti i continenti. E dunque, io, in una famiglia, dobbiamo visitarci per conoscerci, per sostenerci, per interessarsi. E dunque, io devo andare a visitare tutti i membri della famiglia. Per questo, sono molto in viaggio, però, una cosa interessante è che anche se viaggio molto, mai esco della casa. Perché considero che l'Istituto e la famiglia salesiana sono una grande casa, grande come il mondo. Quando passo da un paese all'altro, non esco della casa, sono sempre in casa. E devo dire che è una ricchezza molto grande, perché avere la possibilità di vedere come il carisma salesiana si incarna in tante culture diverse, in tante realtà diverse, però tutti abbiamo lo stesso spirito, allora questo è un dono molto grande. Qualche volta vado prima del Papa, qualche volta vado dopo il Papa. Allora, a seconda del caso, è un'occasione di partecipare della preparazione o di avere anche l'onda, la risonanza della visita del Papa. Allora, io vi auguro a voi, non potete fare tanti viaggi, però nel cuore sì, e anche nella preghiera. potete raggiungere tanti altri giovani di tutto il mondo che come voi sono fratelli e sorelle. Grazie. Grazie mille, Madre Generale. È stato un piacere. Grazie a voi. Grazie a voi.